Cala il crepuscolo quando Akan si avvicina al portone di Villa Yaman, ma il suo ingresso è vietato per ordine di Zuleya. Non arrendendosi, Akan irrompe attraverso il cancello con la sua auto e fa irruzione nell'abitazione, chiamando Zuleya a gran voce. Quando finalmente la incontra, le esprime il bisogno urgente di parlare, ma lei gli ordina di lasciare la proprietà. Egli insiste e Zuleya allora gli rivela che è consapevole del suo ingresso nella sua vita e nella sua azienda con intenzioni vendicative sotto la falsa maschera di protettore, accusandolo di aver pianificato la rovina di Demir e interrogandolo sul suo possibile coinvolgimento nell'attentato a lei sferrato. Akan si difende, sostenendo di non essere capace di farle del male, ma Zuleya, irremovibile, gli restituisce l'anello di fidanzamento e gli chiede di abbandonare la sua dimora. Con il cuore in frantumi, Akan le confessa di essere arrivato a Kukurova mosso da desiderio di vendetta, ma di essersi poi perdutamente innamorato di lei. Un sentimento che ha trasformato radicalmente i suoi piani e le sue intenzioni, dichiarandole il suo amore sincero. In quel preciso istante, Fikret fa il suo ingresso nella stanza, venendo informato che Akan sta per lasciare la villa. Prontamente, Akan si impadronisce dell'anello e se ne va. Zuleya, con gli occhi lucidi di lacrime, si confida con Fikret, esprimendo il suo sgomento per aver creduto in Akan. Fikret, cercando di confortarla, le promette che la situazione migliorerà. Successivamente, Akan si dirige verso Ankara per incontrare la consueta interlocutrice, la direttrice dei servizi segreti, esponendole la sua necessità di ottenere documenti cruciali per rivelare la verità a Zuleya. La signora Gungor, tuttavia, gli comunica che non è possibile fornirgli tali documenti a causa di un'emergenza legata ad un'operazione in atto, che richiede l'attesa del rientro dei loro agenti in Turchia. Akan, con fervore, le ricorda di aver dedicato la sua esistenza al servizio del dovere, ma la direttrice ribatte che, benché ciò sia vero, la divulgazione di quei documenti metterebbe a rischio la vita di numerose persone. Pertanto, le esigenze di sicurezza collettiva devono avere la precedenza sull'amore personale, imponendo a Akan un doloroso sacrificio. Nella calda atmosfera di Kukurova, Kadir trova il modo di avvicinare Betul, dichiarandole il suo amore. Betul, però, esprime la sua preoccupazione per la possibilità di essere scoperti, temendo le reazioni di Kolak, descritto come un individuo pericolosamente instabile. Kadir si mostra protettivo, affermando di essere pronto a eliminare la minaccia. Ma Betul lo supplica di astenersi da azioni drastiche e gli promette che sarà lei a segnalargli il momento sicuro per i loro incontri. Nonostante ciò, Kadir insiste per trascorrere quella giornata insieme, convinto che anche Betul desideri lo stesso. Poco dopo, Betul si vede costretta a contattare Kolak, raccontandogli di dover recarsi ad Ankara per assistere un'amica in difficoltà. Una scusa che Kolak accoglie malvolentieri, ma alla quale infine acconsente. Kadir si mostra insofferente per il fatto che Betul abbia dovuto giustificarsi. Ma lei lo rassicura dicendogli che per il momento deve proteggerlo e invita a non lasciare che le complicazioni esterne rovinino il loro tempo insieme, esortandolo a concentrarsi esclusivamente sul loro benessere reciproco. Durante un pranzo condiviso, Kadir sorprende Betul con un bouquet di fiori e dolci parole d'amore. Nel corso della conversazione, aprono le porte delle loro vite. Kadir le confida il suo passato umile, figlio di un contrabbandiere, e le difficoltà affrontate per costruirsi una vita e un'attività propria, motivo per cui ha spesso percorso la vita in solitudine. Betul, a sua volta, svela le sfide dell'appartenere alla famiglia Yaman, raccontando come il patrimonio di suo nonno fu ingiustamente sottratto dal padre di Demir, lasciando il proprio avo in povertà. Quando Kadir la interroga sui suoi sentimenti per Fikret, Betul ammette di essere stata attratta non dalla persona, ma dal prestigio del suo cognome e dalla sua ricchezza. Finché l'intervento di Zuleya non ha cambiato le dinamiche, Kadir, all'udire ciò, esprime la sua gioia per l'intromissione di Zuleya, ribadendo i suoi sentimenti per Betul. Nel frattempo, Zuleya si confida con Lutfi e Fikret, rivelando il suo desiderio di non dover più incrociare Akan, nonostante le circostanze la costringano a mantenerlo come socio. Esprime dubbi sulla volontà di Akan di vendere le sue quote della società, una situazione che la pone in uno stato di incertezza e preoccupazione. Nel frattempo, Akan si perde nei ricordi dei momenti felici trascorsi con Zuleya, riflettendo nel suo ufficio. Il giorno seguente, Zuleya prende l'iniziativa di contattare Akan, proponendogli un incontro per discutere la possibilità di riacquistare le sue quote della Yaman Holding, offrendogli un equo compenso. Inoltre, lo esorta a lasciare definitivamente Kukurova, sottolineando che le quote erano state acquisite sotto una falsa identità e che, in caso di un eventuale contenzioso legale, lei avrebbe avuto la meglio. Akan, tuttavia, rifiuta la proposta, portando Zuleya ad annunciare che si sarebbero visti in tribunale. Dopo aver trascorso la giornata insieme, Kadir riaccompagna Betul a casa, non nascondendo la sua sofferenza per la relazione di lei con Kolak. Con un misto di speranza e determinazione, Betul gli promette che avrebbe parlato con Kolak quel giorno stesso per porre fine alla loro relazione, dimostrando così il suo impegno verso Kadir. Durante un incontro con il suo legale, incaricato di contestare l'acquisto delle quote della Holding Yaman effettuato da Akan con un'identità alterata, Zuleya riceve una notizia sconcertante. L'avvocato le comunica che l'operazione non può essere invalidata poiché le quote sono state acquisite tramite una società legittimamente intestata Akhan Gumusoglu, lasciando così Akhan come suo partner d'affari. Questo sviluppo getta Zuleya in uno stato di profonda delusione. Nel frattempo, Betul fa ritorno da Kolak, che la riceve entusiasticamente. Durante una conversazione rilassata, a Betul viene recapitata una lettera che contiene la notifica di una seduta giudiziaria, risultato della causa legale avviata da Zuleya. Condividendo la propria apprensione con Kolak, egli la rassicura, promettendole di annientare Zuleya in tribunale e garantendole che nessuno avrà il coraggio di farle del male sotto la sua protezione. Al suo rientro in officina, Kadir si imbatte in Akhan che lo attende con impazienza, interrogandolo sul suo recente comportamento enigmatico e se dietro ci sia una storia d'amore. Kadir nega di essere il tipo che si innamora facilmente, ma Akhan gli fa notare che l'amore nasce spontaneamente e colpisce inaspettatamente. La conversazione si sposta poi su Zuleya, con Akhan che ammette la sua difficoltà a farla ascoltare nonostante il suo disperato bisogno di rivelarle la verità. In un successivo, inquietante episodio, mentre Akhan guida in una zona desolata, incappa in del filo spinato steso sull'asfalto che lo costringe a fermarsi bruscamente. Viene rapidamente immobilizzato da quattro individui. Ritrovandosi poi incosciente, Akhan si sveglia immobilizzato su una sedia, mani e piedi legati e un sacco in testa. Quando Zuleya entra nella stanza con una valigia piena di denaro, ordina che gli venga rimosso il sacco. Quando la vede, Akhan rimane stupefatto. Zuleya gli spiega che le sue azioni l'hanno costretta a questo estremo, esigendo che le ceda le sue quote della holding in cambio del denaro e che poi lasci Kukurova. Dopo averlo liberato, gli pone davanti un documento da firmare, segnando un drastico punto di svolta nella loro relazione. Incapace di rispondere, Akhan si trova di fronte a Zuleya che, senza esitazione, estrae una pistola e la dirige verso di lui. Nel contempo, altri quattro uomini lo minacciano con le loro armi, costringendolo a prendere una decisione sotto l'alta tensione del momento. Zuleya, con fermezza, gli intima di firmare i documenti per cedere le sue quote, assicurandogli che sarà compensato per il loro valore. Questo scenario si rivela essere una trappola orchestrata da Zuleya, con Akhan immobilizzato in un magazzino, circondato da uomini armati e sotto la minaccia diretta della pistola di Zuleya. Con uno sguardo carico di emozioni contrastanti, Akhan rivela a Zuleya che il denaro non ha alcuna importanza per lui. Ciò che realmente conta sono i suoi sentimenti nei suoi confronti. Di fronte a questa confessione, Zuleya esprime dubbi sulla sua sincerità, accusandolo di essere giunto a Kukurova animato da vendetta, fino al punto di aver eliminato Demir. Akhan tenta di chiarire la sua posizione, ammettendo di aver avuto divergenze con Demir, ma nega di essere stato responsabile di qualsiasi atto letale. Sostiene che il suo intento fosse unicamente legato a una rivalsa economica e che, l'inaspettato sviluppo dei suoi sentimenti per lei, ha radicalmente trasformato le sue intenzioni. Di fronte all'incertezza di Zuleya, Akhan la sfida, invitandola a sparargli se persiste nel dubitare della veridicità del suo amore, dimostrando così la profondità e la complessità dei sentimenti che animano il loro conflitto. Zuleya, dubitando dell'autenticità delle parole di Akhan, minaccia di far fuoco se egli rifiuta di apporre la sua firma sui documenti di trasferimento delle quote. L'incertezza la pervade, facendo vacillare la sua mano armata. Inaspettatamente, un grido squarcia il silenzio, distogliendo l'attenzione di Zuleya e causando la partenza accidentale di un proiettile che sfiora pericolosamente Akhan. L'autore dello strillo è Fikret, che irrompe con l'intenzione di interrompere l'azione. Akhan riporta un lieve sfregio, mentre Zuleya insiste affinché compia la firma prima di lasciare la scena. Fikret interviene, sottraendole l'arma e avvolgendola in un abbraccio che sfocia in un pianto liberatorio, permettendo Akhan di allontanarsi indisturbato. Nel frattempo, Beitul, in procinto di incontrarsi con Kadir, si rende conto di essere seguita da uno degli scagnozzi di Kolak. Abilmente, riesce a eluderlo e raggiunge Kadir in officina, rivelando che Kolak ha messo in atto la sorveglianza, probabilmente scettico riguardo al pretesto del viaggio ad Ankara. La tensione sale tra loro, e Kadir interroga Beitul sulla fine della sua relazione con Kolak. Lei, tuttavia, confessa di non averlo lasciato, suggerendo invece che potrebbero sfruttarlo per i loro fini. Beitul fa notare che Kolak controlla una vasta porzione di Kukurova e, non avendo eredi, sarebbe un peccato se il suo patrimonio finisse allo stato alla sua morte. Successivamente, Kadir visita il ristorante gestito da Kolak con la scusa di assaggiare il suo rinomato kebab. Poco dopo, Beitul fa il suo ingresso, puntando il dito contro Kolak in pubblico, accusandolo di tenerla sotto sorveglianza. Kolak si difende affermando che il suo gesto è motivato dalla volontà di proteggerla dai molti pericoli, data la loro nota relazione, e dalla paura di vederla ferita. La scena di Kolak che abbraccia e accarezza Beitul scatena in Kadir un impeto di gelosia. In un altro contesto, Fikret avvicina Akan, sottolineando come ora non siano più in debito l'uno con l'altro. Akan aveva un tempo salvato Fikret in Libano. E ora Fikret ha ricambiato il favore, scongiurando che Zuleya gli sparasse. Pertanto, Fikret lo incita a vendere le sue quote a Zuleya e a lasciare Kukurova. Akan, tuttavia, esprime l'impossibilità di allontanarsi da Zuleya. Più avanti, Fikret visita la villa portando doni, al che i bambini esultano di gioia, tanto che Fadik esprime il desiderio che tra Zuleya e Fikret possa nascere qualcosa di più serio. Parallelamente, durante una cena con Kadir, Akan condivide la sua recente esperienza drammatica con Zuleya, la quale ha tentato di ucciderlo, convinta delle sue malefatte, tra cui l'infiltrazione nella villa e l'uccisione del marito. Questa rivelazione dipinge un quadro di tensioni e malintesi, con Zuleya che vede in Akan un traditore e un pericolo, nonostante le complesse dinamiche sentimentali che li legano. Kadir accenna a trovare un modo per comunicare a Zuleya che Akan non è responsabile delle accuse mosse contro di lui. Tuttavia, Akan gli rivela che Zuleya è al corrente della morte di Fecheli per mano sua e che, essendo soci in affari, la loro riconciliazione passa attraverso la necessità di allontanarsi l'uno dall'altro al momento opportuno. Kadir riceve un avvertimento da Akan. Zuleya è al corrente che Fecheli è stato eliminato per mano sua e, per trovare una via di riconciliazione con lei, è necessario che i due soci prendano strade separate al momento opportuno. Kadir, pur dispiaciuto, comprende la scelta di Akan di dare priorità all'amore. Quando Akan solleva la questione dei sentimenti di Kadir per Betul, quest'ultimo nega, ma Akan lo mette in guardia sul rischio di soffrire per amore in futuro. Fikret, dopo aver lasciato la villa, nota Vaap nascondersi vicino al cancello e, non riuscendo a catturarlo, decide di informare Akan del comportamento sospetto. Rivela inoltre di aver trovato una scatola piena di oggetti rubati a Zuleya, appartenenti a Vaap, etichettandolo come individuo pericoloso che non ha imparato la lezione dopo essere stato precedentemente corretto. Più tardi, Vaap, in preda a un'ossessione, aggiunge una nuova immagine di grandi dimensioni a una parete già tappezzata di foto di Zuleya. La sua riflessione viene bruscamente interrotta dall'arrivo di Akan, che lo aggredisce fisicamente per aver trasgredito l'avvertimento di tenersi lontano da Zuleya, sottolineando che solo l'intervento di Kadir gli ha salvato la vita. Questo episodio chiude le anticipazioni di sabato 9 marzo, segnando un momento di pausa nelle vicende di Terra Amara. Vi ricordiamo che la trasmissione subirà un cambiamento nella programmazione, non andando più in onda quotidianamente ma soltanto il venerdì sera e la domenica pomeriggio a partire dall'11 marzo. Ma voi continuate a seguirci perché approfondiremo insieme le vicende legate alla nuova SOP che andrà in onda da lunedì 11 marzo, e cioè Endless Love. Grazie. A presto.